Deve ancora partire la stagione di prosa al Teatro Comunale Maria Caniglia, ma già si respira aria di successo a giudicare dei numeri. La campagna di Sulmona parte in effetti con una grande accelerazione, registrando tra mercoledì e giovedì, primi due giorni di apertura del botteghino, oltre 150 abbonamenti. Siamo soddisfatti di questo inizio così brillante, comenta il presidente di Abruzzo Circuito Spettacolo, Federico Fiorenza, perché oltre ad essere un buon segnale per i risultati che sicuramente ci saranno in termini di adesione, ci segnala senza dubbio che la strada intrapresa qui a Sulmona in termini di scelte artistiche è quella giusta. Non dimentichiamo che il Maria Caniglia era orfano di una stagione di prosa da molti anni e la riapertura della prosa è stata per ACS una sfida e un'inconnita. I numeri dello scorso anno, con i tanti sold out e i commenti positivi dopo le rappresentazioni ci avevano già confortato, ma la corsa all'abbonamento, registrato in questi primi due giorni ci conferma l'amore di Sulmona per il teatro di qualità e la volontà di tutti i cittadini di recuperare quanto di bello e di patrimonio culturale c'è in questa splendida città. L'acquisto dell'abbonamento della stagione di prosa sarà possibile fino al 31 ottobre, giorno della prima regionale della grande commedia di Edoardo e Luca De Filippo, non ti pago, dallo stesso giorno sarà possibile acquistare singoli biglietti di ciascuno spettacolo.